Ciao ragazzi, lei è Alessia, lui è Gioele e io sono Livio e questo è The Ragazz Talk. Oggi siamo qua con uno degli influencer a livello sessuale. Sì, di sex influencer. Sex influencer conosciuto in Italia. Signor Livio. Signor Livio. Salve, salve. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bentornati. Bentornati. Come va? Come stai? Non c'è male, non c'è male. Qui Firenze mi piace sempre parecchio. Non dirò che mi piace quasi quanto Roma, anche se l'ho appena detto, però mi piace tanto, quindi mi fa piacere. Anche se oggi è un po' una giornatina di merda. La meteoropatia non aiuta troppo. È un freddo terribile oggi. Sì, sì, no, che schifo, basta. Allora, vuoi raccontare alle persone che potrebbero stranamente non conoscerti che cosa fai nella vita? No, sì, penso che sia più gente che non me conosce che me conosce. Però, sì, mi presento. Mi chiamo Livio Ricciardi e di professione faccio il consulente sessuale, che è una figura, diciamo, simil-sessuologo. Uno che può dirti sia come si fa una cosa a livello sessuale che guidarti, indirizzarti verso la consapevolezza della sessualità, della tua sessualità. E aiutare magari coppie che hanno difficoltà, persone che hanno difficoltà, eccetera, eccetera. E per il resto quello che faccio è fare divulgazione sui social. Lo faccio da un paio di annetti, forse qualcosina in più, in cui spiego un po' il funzionamento della sfera sessuale e anche quella relazionale. E funge questa roba sui social? Funge tanto? Ambassà, con le sue difficoltà, ma... Tipo? Eh, perché magari becchi la persona che dice, no, non è vero quello che stai dicendo, e tu gli dici, bro, guarda che non è che me lo sono inventato stamattina perché mi ha andato di traverso il caffè. Cioè, è una cosa che magari ha determinate prove scientifiche dietro, no? Oppure magari la persona che segnala perché stai parlando di sesso, oh mio Dio. Oh Dio. Oppure le persone opinano un sacco sulla sfera sessuale e relazionale, si opina un sacco, giustamente perché è bello creare un dibattito, però allo stesso tempo c'è comunque da riconoscere quella che è la scienza e quello che non è la scienza, quella che è magari la speculazione. Ok. Magari la stessa persona che mi critica a me, che parlo tendenzialmente, secondo dettami scientifici, paga 4.000 euro al mese e un coach di seduzione. Benissimo! Un po' selezione naturale, no? Che tocca a fare. Nel tuo percorso di studi eri già deciso di voler studiare questo o ci sei arrivato dopo? A me è successa una cosa strana, cioè c'è avuto, non lo so, mi è successa una cosa in contemporanea, perché non voglio fare quello, ah no, se io ho questa passione per la patata sì, cioè nel senso, quello è normale, però non è che ho quella passione intanto da studiarla. In generale mi ha sempre affascinato il mondo delle relazioni e anche quello della sessualità, motivo per cui io ho studiato psicologia e tuttora studio psicologia. Quindi più o meno dopo la triennale, forse anche prima, all'inizio del terzo anno, quello che ho fatto era fare una rubrica, che la faccio tuttora, su Instagram, in cui chiedo alle persone se voglio un consiglio su amore e sesso, solo che l'avevo fatto in modo molto disinteressato, sereno. Sì, certo. Non è che c'avevo, cioè, c'avevo quasi una triennale in psicologia, però non è che davo i consigli magari con la stessa sicurezza con cui li do adesso, anche perché a un certo punto diventa una responsabilità. E quello che è successo è che a un certo punto mi sono cominciato a rendere conto che innanzitutto mi piaceva come argomento. Me ne stavo innamorando, sia dell'aspetto relazionale che di quello sessuale. E poi che per rispondere alle persone, che era una cosa più secondaria, però per rispondere alle persone bisogna essere formati. Non è che uno gli può dare il consiglietto così, quello te lo dà, l'amico sta in briaco con le dire davanti e dice, oh, quella non me la dà e tu gli dai consiglio, però per dare un consiglio a livello pubblico sui social devi essere formato. Lo so che sembra strano, però è così. E quindi ho cominciato, dopo la triennale ho fatto subito un master magistrale, ho preso psicosessuologia clinica e ho cominciato, cioè, leggo in continuazione libri su qualsiasi tipo di aspetto che possa circondare appunto queste due sfere qua. Ecco, ma domanda, per esempio, ora, in questi ultimi anni sono emersi molte figure sui social che comunque in ogni caso hanno a che fare comunque con la salute, no? Che possa essere sessuale, fisica, alimentare. Mentale. Abbiamo avuto qua uno dei miei ospiti, Alessio Di Gennaro, che è questo nutrizionista molto conosciuto su TikTok. E mi sono sempre chiesto, questa è una domanda che lui per esempio mi è sfuggita e non gliel'ho fatta. E effettivamente è una figura che metti alla fine da consigli, ok? Però da anche, non dico consulti, perché ovviamente per un consulto suppongo da parte tua ci voglio una visita magari. Sì, sì. Però comunque, magari a livello diciamo più relazionale e meno fisico, comunque sempre un consulto rimane, no? Quindi tu effettivamente puoi sui social dai dei consulti gratuiti, magari? Sì, delle pilloline, nel senso che io spessissimo quando mi fanno le domande, quando metto il box, quando mi chiedono una cosa su TikTok specifico, perché è una cosa che ci scordiamo, che bisogna, non si può fare una diagnosi, non si può parlare soprattutto in modo legato all'individuo di una cosa su una storia Instagram che ora si dura un minuto, ma rimane un minuto, oppure su un TikTok che sì, so tre minuti, ma rimangono tre minuti, c'è bisogno di cucire addosso alla persona quella che può essere una diagnosi, quello che può essere un consiglio. Quindi è una cosa ovviamente, una pillola, un'introduzione, un input che si può dare a una persona che ha bisogno di un parere, di un consiglio, ma non è risolutivo. Può aprire un pochino la mente, può accadere come cosa, super bello, però non è quella la soluzione. E quindi sostanzialmente questo. Cioè perché nasce più questo consiglio che poi tu dai alle persone, ok? Per te, ma non dico solo per te, dico anche per altre figure, secondo te è più uno strumento per dire guarda, ho un modo di aiutare più persone in questo modo, anche nel piccolo, magari non dando l'aiuto della vita, ma comunque dando informazione, oppure è più il ragionamento di dire guarda, è tipo un appetizer di quello che avrebbero se venisse con me a farsi la cura, capito? No, no, anche perché è nata prima la cosa, e poi, cioè io in realtà che potessi fare consulenza, l'ho scoperto una volta, ho preso il master per le consulenze, e scrissi proprio una mail alla segurezza di io, ma quindi, cioè potrei fare delle consulenze, le persone, e mi hanno detto sì sì, le puoi fai, allora lì... Ci hai puntato la sua vita su questa cosa. Sì sì sì, no, in realtà c'ho anche altri obiettivi, a me mi piacerebbe diventare una figura divulgativa, poi sto ancora capendo un pochino, per ora voglio arrivare a diventare un sessuologo, prende finire la formazione che sto facendo in questo momento, e poi c'ho il dilemma o scuola di specializzazione oppure dottorato, però mi piacerebbe prevalentemente divulgare, anche se il lavoro diciamo più clinico mi piace tantissimo. Tipo più clinico in che senso? Eh, le consulenze, quindi aver cercato a fare con i clienti è una cosa che mi strafomenta e mi piace proprio. Con tutto che ti prosciuga a livello proprio di energie, perché cioè io mi ritrovo a mangiare magari roba con lo zucchero in mezzo per alimentare il cervello, perché è una cosa bellissima, però ci stanno delle giornate che finisco e dico apposto, buonanotte ragazzi, che sono le sete pomeriggio, quindi... Però mi piace tanto. E di base, no, non è stato... faccio un attimo il coatto, io ho fatto tipo, da quando ho iniziato a fare il consulente avrò fatto tre storie in cui dico volendo potete fare la consulenza con me, cioè non ce l'ho mai avuto bisogno, quindi è una cosa che poi accade, no? Sì. E vengono da una curiosità, mi sto creando io un paradosso adesso, ti capita mai la sindrome del giurataio? Ok, esatto. Mi sono ovviamente a caso, l'ho appena nominata io. Allora, la sindrome del dire, questa è una stronzata in male, però... Allora, la sindrome del dire, guarda, io faccio gelato tutto il giorno, non ho bocca di gelato poi la sera. Nel tuo lavoro? No, questa è intelligente. Allora, in realtà è una domanda della Madonna, non è una stronzata, anzi, anzi... No, dicevo la domanda del giorno, è una stronzata. No, 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 però ci sta come domanda. Tante persone del settore, sotto tutti i fronti, non al settore sessuale, che possa essere anche un sex worker o una sex worker, o un sessuologo, o quel che sia, magari ci hanno un vissuto particolare rispetto alla sessualità, perché la mastichi tutti i giorni. Sicuramente non ti devi portare il lavoro a casa, ma in un certo senso manco troppo le conoscenze. Ho visto come quando fai lo psicologo, il terapeuta, non puoi vedere... è molto difficile, ma non puoi vedere amici, parenti, persone che ami, o qualsiasi tipo, è come, vedi, con l'occhio clinico, insomma. Certo. Allo stesso modo, quando vedo una vulva, quando faccio un atto sessuale, non è che sto lì... Ah, questo è una... Non è che sto lì a... La parola è in latino. Capito. Quel che è una vulvulus vulvulus. L'abbia maioris. Se stimolo ci potrebbe essere un'erezione. Cioè, cerco di non portarmelo a casa, in un certo senso, ma manco di riflettere sotto quelle. A volte, diciamo, la consapevolezza, il fatto di essere in contatto con questo mondo, studiarlo e tutto quanto, mi aiuta, ma non è che faccio un'autoanalisi, anche perché è impossibile. E anche io, se c'è un problema, cosa mi è capitata, ho fatto uno squillo a altri consulenti sessuali e sono in terapia da 700 miliardi di anni, quindi non mi freno di fronte a sta cosa, cioè non tendo a curarmi da solo con quelle stronzate lì. Quindi, il desiderio non è una cosa che credo accada più ai sex worker, in realtà. Eh, pure quello è interessantissimo. Cioè, nel senso, se tu lavori in quell'ambito lì, ok, ma non lavori, cioè proprio lavori a livello fisico, cioè magari la relazione, cioè quanto la può scombustolare secondo te e roba del genere? Vabbè, chiaramente non dico per l'esperienza. Cioè, scusami, alla fine ho un lavoro, cioè te non ti porti, come hai detto, il lavoro a casa. Sì, ma è un po', è leggermente diversa la questione, cioè come dire, guarda, anche un attore magari ha una relazione, insomma, on screen con qualcun altro, ma qui è un altro discorso, capito? Io credo che sia molto importante, per quanto riguarda il sex worker, riuscire a scindere quello che è il significato del sesso, no? Esatto. Al periodo di lavoro, relazione, ma anche il tipo di, il significato che ha per quella persona, no? Perché da una parte ci possono essere anche tutta una serie di schemi, anche a livello pratico, posizioni, cose, tipo di performance in senso stretto, perché in quel momento è il lavoro da attuare e poi la sessualità relazionale per un sex worker deve cercare di puntare, assumere un ruolo diverso, anche un significato diverso, un scopo diverso per la persona. È un concetto un po', diciamo, complicato, un po' strano, che andrebbe anche quello cucito attorno alla persona che magari vede il desiderio sessuale nel momento in cui sta tutto giorno a preoccuparsi, pensare, creare contenuti, di lavorare in quel senso e torni a casa e io penso che te vuoi fare un tè, vedete Shrek, non c'hai la minima voglia, ma può accadere come cosa. Bello, mi piace, ci sta. Cosa ti piace? No, mi piace l'idea del fatto che si possa scindere questa cosa. Si deve scindere questa cosa, secondo me. C'è sempre la pezzata che non necessariamente un allenatore è stato un bravo giocatore, no? Però vabbè, magari in parte sì. Sì, sì, alcuni sì, però se prendi Murigno, ora sono pure romanista, quindi mi ci trovate, era una sega a giocare a calcio, però allena uno dei più vincenti della storia. Cioè, questo si può riportare anche un pochino nell'ambito, cioè non è detto questo quando mi dicono, eh no, tu sicuramente, magari alcune ragazze mi idealizzano, eh no, sicuramente tu trombi. Il dio del senso dell'orba. Mi capitano queste cose, magari ho il fascino, tante persone mi dicono, non so se sei bello o c'hai fascino, io che cazzo ne so, se non lo sai te che lo sapi io. Cioè, il punto là è una questione ovviamente dell'idealizzazione, perché vedi una figura che sa, poi io non so se so bravo a letto o meno, cioè non me ne frega niente alla fine, cioè l'ho un po' superata queste cose, cioè mi interessa creare una sessualità, sì, sì, l'ho superata, l'ho curata, no, in realtà mi interessa creare una sessualità funzionale con la mia patria e sto a posto così, che sia soddisfacente per entrare, poi che deve essere il mago del sesso, non c'ho molto interesse. E quindi, nel senso, può essere pure che so solo la teoria, cioè, capito come? E in quel momento, e questa è una cosa... C'hai il foglio rosa, quindi basta. Sì, c'hai il foglio rosa, però l'esame di pratica, sono due mondi differenti, no? Poi l'essere bravo a letto è un par de' maniche, cioè, che cosa vuol dire essere bravo? Anzi, ve lo fa. Secondo voi che cosa vuol dire essere bravo a letto? Per me uscire dalla situazione entrambi soddisfatti di quello che è successo. Concordo. Mamma, chiudi questo video. No, boh, io la vedo più come una questione di amore. Per me il sesso è legato all'amore, quindi significa amarsi e rispettarsi. Madonna, sono proprio hippie. E le colombe volano, intanto. Boh, lo vedo più così, lo visualizzo più così. Io colgo l'occasione per dire una cosa in relazione a quello che hai detto adesso. È importantissimo, lo voglio dire in senso un pochino divulgativo, perché c'è molto questa cosa, questa conflittualità, soprattutto le persone che per arrivare a fare sesso con una persona, gli deve piacere intellettualmente o gli deve scaturire addirittura i sentimenti, lo legano all'amore, magari come fai te. e si sentono in difetto perché c'è la gente lì fuori che fa sesso occasionale. Ma sesso occasionale ti deve andare a farlo. Se non è una cosa che sta nelle tue corde, ma non perché sia un qualcosa in meno che hai, ma semplicemente una cosa che in te non ha a che fare con il sesso, cioè non ti tange, allora si cazzi. Cioè, sesso bisogna farlo perché ci va di farlo e capendo quelli che sono i criteri che ci portano a far sesso, non per farlo perché l'altro gli fanno sesso occasionale. A me viene in mente la scopo amicizia, no? Cioè, questo tema per te funge a livello umano. Sì. Cioè, effettivamente può connettere di più due persone che magari non hanno... Ora, dire nessun sentimento uno per l'altro è una stranzata, perché comunque un sentimento amicizia comunque ci deve essere, capito? Beh, una scopo amicizia può essere anche... Cioè, ci stanno diciamo un po' due tipi di scopo amicizia. Uno che nasce da... È diventato confusissimo. Sì, perché io non la penso per niente così. Va bene, continuo. Poi ci arriviamo. Tra l'altro su questa cosa ci sto riflettendo, meditando molto questo periodo. Stavo pure a pensare, c'è avuto un periodo l'anno scorso che ho meditato un sacco sul discorso delle situationship, sul discorso della scopo amicizia. Robbe. Però c'è un mini pimmer in testa, adesso non riesco a... Però al punto, rispondendo... Andando per ordine, il punto è che secondo me ci stanno due tipi di scopo amicizia. Una è quella che nasce già da un'amicizia, cioè due persone che sono già amiche che dicono a un certo punto oh, però te sei una fregna, te sei in fregno o qualsiasi combinazione possibile e decidono di andare a letto. Ok. In quel momento si rendono conto e vanno a fare quella cosa. E in quel caso, no? La gente dice no, perché poi se comincia a fare sesso con quella persona sboccia l'amore. Dico, sì, ma non è che c'è stava già prima. Ah, ecco. Lancierei questa... Ma non è che forse c'era già... Secondo te proprio quella trombata ti ha fatto innamorare? Chi è questo? Chi è questo? Oh! Come si chiama? Magari quella è una cosa che... È un discorso di associazione, no? Magari appunto una persona che arriva a fare sesso sotto l'ombrello della scopo amicizia con una persona e il sesso lo vede legato a una questione amorosa magari ci può essere quel tipo di outcome, no? Quel tipo di risultato che poi porta all'innamoramento. Oppure c'è una scopo amicizia ovvero due persone che si conoscono iniziano a trombare però fanno la classica cosa no, io non voglio una roba seria e... Poi diventa tossica. No, non necessariamente. Non è detto, cioè se andiamo a vedere le percentuali io feci un sondaggio che comunque non è pubblicato sul Nature però c'era anche tanta gente che aveva risposto migliaia avevo chiesto quanto di voi è capitato che il vostro partner sessuale in scopo amicizia si innamorasse o che voi siete innamorati durante la scopo amicizia e era il 50% delle persone sì il 50% delle persone no quindi succede una volta su due ovviamente ci stanno basati sul sondaggio di Instagram ma non è una cosa che succede tassativamente perché le persone quando si parla di scopo amicizia dicono no, poi uno dei due si innamora come se fosse una certezza e non è detto che sia così e secondo me ci stanno dei criteri che uno può adottare affinché questa cosa non diventi rischiosa che poi come se l'innamoramento fosse rischio cazzo stai a provare delle emozioni cioè c'è stata gente che si decara due grammi di MD per provare e tu le stai a provare grazie a un pene o una vagina ringrazia Dio cioè scusa quindi quindi cioè c'è anche tanti lati positivi dal punto di vista sessuale perché c'è un analista la psicanalisi spesso e volentieri è molto speculativa però che si chiama Khan e fece sto articolo in cui parlava della scopo amicizia come una relazione perversa questo era il termine perverso che era molto legato a tutta una dimensione atipica prima si vedeva ma l'occhio anche una scopo amicizia come se è una cosa strana dice cazzo stai in una relazione e ne parlava come se fosse una masturbazione a due perché come se come se non ci fosse quell'elemento di legame di coppia che la sessualità va a creare ma come se fossero quasi due persone che si masturbassero insieme una una sessualità più masturbatoria non una sessualità di coppia e questa cosa qui in parte è vera nel senso che spesso e volentieri tantissime persone che si trovano nel sesso occasionale io la vedo lei gli forna la testa no sto ascoltando lei gli forna avevo numerini che commette tutto insieme vai vai e spesso e volentieri le persone che stanno in una scopo amicizia o che fanno sesso occasionale gli succede una cosa ovvero che non avendoci tutti quei sentimenti tutta quella posta in gioco che c'è magari nella relazione perché te va una scopata male con uno scopo amico e dici va bene amore ci rivediamo la settimana prossima se rifammo una bombata questa è andata così magari all'interno della relazione questa cosa ti pesa e riberbera anche su tutti gli altri aspetti oppure è quello che vuoi cioè hai la necessità di creare una sessualità il più possibile funzionale bellissima perché è stata in coppia perché deve essere capito c'è tutto quei sentimenti tutti quegli schemi che si creano in una relazione tutto quello che vorresti da quella relazione che magari si ripercuota nel sesso nella scopo amicizia non te ne frega a caso è vero ho capito per dirlo in francese per farlo capire a me soprattutto no vabbè e quindi a scopo amicizia c'è molto più disinteresse è molto più masturbatorio cioè meno ci stanno meno delle finalità secondarie e quindi c'è più leggerezza è vero però questo cioè ok ok quindi può essere una cosa assolutamente positiva soprattutto quelle persone che spesso e volentieri all'interno della relazione vanno a sentire ansia per quanto riguarda il contesto sessuale quindi più scopo amicizia oh cazzo 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 che ne pensi della monogamia ecco ve lo sai te lo volevo chiedere anch'io è uno stile relazionale come tanti che si possono vabbè sai che non voleva arrivare qua voleva arrivare al contatto vorrei arrivare alla monogamia allora stavo leggendo un libro di Josephs però non mi ricordo il nome però il cognome è Josephs sì difficilissimo da pronunciare si chiama infedeltà e poi ho letto i altri sempre sulla non monogamia ho letto in principio era il sesso il principe del sesso in principio era il sesso il principe è lui il principe del sesso cioè può essere uno come può essere un altro cioè uno la poligamia tra l'altro pensa necessariamente a una persona che ha più partner contemporaneamente una persona poligama è anche una persona che si sposa tradisce la partner oppure nel corso della vita c'è avuto più matrimoni più partner no? e se tu prendi ci stanno degli uccelli gli uccelli non sono monogami manco per il cazzo no scusate non sono poligami manco per il cazzo stai affondendo ok 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 a un certo punto sono arrivati gli uccelli e dici ma quali uccelli quelli che volano gli altri allora gli uccelli per esempio sono molto monogami però finiscono per essere poligami anche loro perché per esempio ci stanno delle specie che si ingroppano l'uccella ci fanno ci fanno i figli e poi dopo un anno che è tutto a posto si è creato diciamo quella struttura che qualitativamente riesce a far crescere gli uccellini sono da coabitare insieme si si l'appartamento si si capito quindi hanno l'affitto milanese che costa tantissimo e poi prende e si va da un'altra uccellina e quello non è tanto non è tanto monogamo no? i primati i mammiferi quel cazzo che sono monogami cioè noi abbiamo un'eredità genetica dal punto di vista evoluzionista e siamo siamo delle mignotte regà cioè noi a livello genetico è una cosa allucinante quindi pensi che la monogamia sia arrivata con lo sviluppare della relazione dopo? secondo me con la chiesa ma che c'entra la chiesa? ma cosa c'entra la chiesa? no in realtà è una cosa conveniente perché è un concetto un po' complesso dovremmo fare altri sei podcast a parte per spiegare però di base lo stile è relazionale si adotta per un discorso prevalentemente di riproduzione ok in una relazione monogama dai tutta una serie di garanzie a quella che può essere la prole perché c'hai due figure che stanno il padre la figura del padre si è concretizzata e si è realizzata proprio nella monogamia ok perché c'era questa figura che dava una mano nella crescita alla madre e poi ci sono creati tutti gli estereotipi anche nella storia moderna eccetera eccetera il padre che lavora la madre che sta con i figli eccetera e quindi qualitativamente fa e cresce meglio i figli perché c'ha due figure c'ha più stabilità e tutto quanto e un'altra cosa che è stata vista è che servono un botto anche i nonni perché danno una mano è vero di contro non c'è scritto da nessuna parte che l'essere umano sia necessariamente monogamo è una scelta è una scelta che non necessariamente è evoluzionistica è una scelta dovrebbe essere una scelta individuale ovviamente noi cresciamo in una società siamo in una società in cui la monogamia viene vista come unica scelta e se non ti senti adatto con la monogamia sei problematico e quindi questo è il risultato cioè adesso quando si parla di non monogamia si sentono frasi tipo io non ce la farei mai ma allora non la mi abbastanza ma non sei geloso e tutte queste cose qui no? però il punto è che è semplicemente una scelta uno stile che adotta ed è importantissimo capire vari aspetti il primo è quello di la sessualità cioè lasciare la sessualità aperta parlando delle relazioni aperte per tante persone è lasciare la libertà perché c'è una questione anche gerarchica no? cioè tu c'hai la main chick e la side bitch o le side bitches capito? un po' questo è il concetto cioè c'hai una relazione principale poi esiste l'anarchia relazionale o tanti altri i poliamorosi che hanno tipo i poliamorosi c'hanno le polecole e anche lì però può essere gerarchico sempre non monogamia è cioè quindi devi mettere d'accordo prima cioè fai la sessualità tutti insieme a te sei la numero uno cioè non ho capito diciamo non è così macchinoso però di base ci deve essere ho visto un meme di un di un sessismo imbarazzante però ammetto che mi ha fatto ridere praticamente c'era tipo questo uomo musulmano e loro sono sono poli poligami da morire sono poligami però non mi ricordo cioè poliandrici per quanto riguarda le donne quello maschino non mi ricordo che c'hai tante partner femmine e c'era la moglie e gli rompeva i coglioni perché voleva uscire con le amiche lui gli ha portato la seconda moglie gli ha detto ti parla con lei mi sono sentito male e e quindi così cioè nel senso è una scelta e dovremmo capire rispettare che è una scelta cioè io per esempio mi ritengo non monocamo però non è che vado a gente monocama e gli dico ah sei un coglione ma come fai io volevo sapere questa quest'ultima cosa che è uscita adesso fuori a livello pubblico ecco perché secondo me è interessante io ci ho pensato quando parlo dell'uccella che mi immaginavo l'uccella che poi si vendicava anche lei con una canzone perché se te cioè se te tipo allora facciamo un preambolo spieghiamo di che stiamo parlando aspetta però io ho questa domanda se te sei monogamo è tutto bene però se il tuo partner o la tua partner non lo sa non ne ha conoscenza e magari non lo è o magari lo è però non ne ha conoscenza della tua monogamia non monogamia non monogamia tradire è giusto o è sbagliato allora lì c'è un discorso un po' un discorso particolare cioè se il patto è monogamo il patto è monogamo cioè è comunque tradimento ok basta c'è da c'è da negoziare sicuramente c'è c'è da capire c'è da cercare di capire quali possono essere le soluzioni ci stanno magari coppie non monogame che decidono ok apriamo la relazione però non ci possiamo trombare le persone nella stessa cittadina perché magari abitano in un posto di 50.000 persone poi la gente chiacchiera gli dà fastidio e quindi trombano dal paese dopo si sono soluzioni che si possono adottare è molto una cosa e in questo senso la non monogamia è molto avanti a livello comunicativo di negoziazione organizzativo rispetto alla relazione rispetto a quelli che sono i paletti i limiti eccetera se fanno proprio i briefing su google meet in cui capisci come puoi scopare ok rilacciandoci a questa cioè le vuoi continuare no si volevo dire cioè questa roba che è successa adesso di shakia per chi non lo sa anche se mi sembrerebbe strano perché ultimamente in questa settimana siamo stati invasi da questa situazione della shaki e di suo marito di piche che vabbè come sappiamo lui l'ha tradita insomma c'è entrata in mezzo la marmellata in qualche modo comunque lei è stata nata cioè hai capito che il pischello tuo ti tradiva perché si consumava la marmellata a parte sono ricchi sfonnati ricompra la marmellata e rompe il cazzo non ti mette a sospettare quello si stava c'aveva la treschetta lei no si sono messi insieme la treschetta una sega io ce l'ho molta a cuore si sono messi insieme ora stanno insieme ma lei da quanto ho capito cioè ha fatto tipo l'uccellino di prima si quello sta proprio metterata in mente da quello ma io dicevo cioè lei non solo ha scoperto la marmellata ma lei si chiedeva perché sta cazzo di marmellata sparisce cioè io non la magno la marmellata a quanto pare mio marito se ne magna poca perché mi spariscono tonnellate di marmellata e ha assunto un detective che gli scattasse le foto dentro casa per capire che cazzo era che mangiava sta marmellata ma non poteva chiedere al marito no no è lei tutti i giorni a percorso ma è l'altra pischella mia che sta la magna vabbè a quel punto gli è scusami ma mi stai tradendo è più sano no sì poi tocca vedete se ti risponde è sempre quello il discorso cioè fai la mangiata no fino alla prestazione la può aver mangiata credo sia accaduto credo che lui tipo facesse ma non lo so ah boh questa marmellata è cascata però in spagnolo un pochino più me sei cagli la marmellata esatto vabbè comunque è un tino scusami no volevo sapere effettivamente ora a parte Shakira insomma in questi ultimi giorni abbiamo anche la Miley dato da fare c'è questa c'è questa grande sensazione secondo me di revenge da parte delle donne nei tradimenti come dicevi tu anche cioè c'era secondo me una volta in cui effettivamente era quasi una vergogna per la donna il tradimento cioè che quasi quasi cioè era meglio che non venisse fuori ma non per l'uomo ma per la donna per l'uomo è buona come se fosse stata così indegna da non di essere a tenerselo capito e invece si è ribaltata la situazione cioè che lui a parte beh lui probabilmente ne è cascato in piedi probabilmente mi ho visto adesso ha fatto la collab con la twingo capito ma scusa quando si ha quel tipo di potere mediatico quando sono quel tipo di coppie lì qualsiasi cosa qualsiasi scoop esca fuori dalla coppia so una valanga dei soldi in più c'è tipo c'è Kanye West e Kim Kardashian che stavano per fare una serie tipo i Kardashian però del divorzio gli avevano fatto un miardo di contratto il divorzion gli avevano fatto un miardo di contratto a Kim Kardashian cioè cazzo è convenuto capito a parte Kanye West ultimamente non è che stia così bene non so se avete sentito cioè tipo lo troviamo nelle fratterie a sposare anche le mucche si sei risposato tra l'altro ma non è quello il problema che si rispose il problema vabbè io non mi sta simpatico vabbè no ma anche in Italia cioè anche Totti e Hilary che abbiamo perso ma perché scusami quello dei Maroon 5 lui se non ci so la coda fra le gambe eh vabbè lui ha fatto la figura del merda perché tipo scriveva alla gente su Instagram una cosa del genere e diceva tipo alla sua amante che una delle figlie l'avrebbe chiamata come l'amante e l'ha chiamata come l'amante quello poi è tipo ad escamento no? no no vabbè era un costanziante questa ragazza era una modella non tanto famosa però lei ci stava e l'ha sputtanata sui social però lui sosteneva di aver detto appunto per quello è uscito il discorso prima alla moglie che era non monogamo ok e poi invece con la cosa fra le gambe ha fatto un comunicato su Instagram dove chiedeva scusa che vabbè a chi devi chiedere scusa devi chiedere scusa tra l'altro secondo me in questo senso io vorrei dire che a parte giudicare la vita di coppia delle due persone e noi qui non siamo nessuno no no ma in generale è una cosa che non sappiamo mai cioè non facciamo parte di quella coppia quindi non sappiamo mai non sappiamo mai i due individui che cosa vivono dal punto di vista affettivo la loro storia relazionale eccetera eccetera però sì ovviamente adesso cioè la cancel culture capace che l'hanno fatta pure al tizio dei Maroon 5 perché si è scopato un'altra cioè regà si fa dall'alba dei tempi lo fanno anche gli uccellini di prima non è non è una cosa per cui cancellare una persona poi di se la tua morale ti dice il patto monogamo il patto monogamo non va non va rotto non ti devi fare i cazzi tuoi non puoi andare con altre persone e gli dici cacca cantante dei Maroon 5 non si fa però la gogna per le corna mi sembra un attimo esagerare c'è sta c'è sta ben altro per cui non voglio far ben artrista l'ho appena fatto però insomma se devo fare la gogna famolo per cose più serie cioè mi preoccupa molto di più Andrew Tate che è il cantante di Maroon 5 capito come ecco questo di Andrew Tate mi sa che me l'ho persa che è successo cosa? di Andrew Tate tipo satana in questo momento cioè tipo questo è è un tizio che era è un kickboxer professionista tra l'altro anche molto molto forte è stato campione bla 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 solo che tipo da forse un annetto due ha cominciato a fare dei ha cominciato a fare dei video era ospita di un sacco di podcast e tirava delle sparate misogine incredibili a partire da dobbiamo proteggere le donne c'è da cose di quelle sottili tipo dobbiamo proteggere le donne a far risalire a tutti quei ruoli di genere iper patriarcali e unito ah ma è il pelato è il pelato quello tipo che investe sulle termine mi sa di persona che fa cripto non so per se sì 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 ovviamente c'era di mezzo la gym culture la fitness culture ovviamente c'era di mezzo eh cripto roba motivazionale crescita personale tutto proprio c'era tutte le le carte de de yugio del del maschilismo tossico del neomaschilismo tossico che ci poteva avere e tipo un mese fa l'hanno arrestato a fine dicembre l'hanno arrestato per come cazzo ti dice human traffic traffico d'essere umani stupro una cifra di reati non ci credo e tipo due giorni fa si doveva fare un mese di cabbio e poi sentenze varie e gliene hanno prolungato un altro no ma è tipo cioè regà è la gente che dice free date io dico vai in terapia vai sbrigati cioè find god il città canio west ecco no vi dicevo proprio su questa questione qua del tradimento cioè social soprattutto cioè pare che non so ti faccio un esempio adesso con shakira perché quello mi viene più in mente cioè non è che lui ha tradito lei lui ha tradito lei e pare abbia tradito tutti i suoi follower di lei capito che intendo sì ovviamente cioè che se la pigliano tutti sta cosa cioè sentono traditi i follower infatti secondo me le relazioni quando sei un personaggio pubblico parere mio forse è meglio se tipo sì sto con questa persona però cazzi miei vabbè se siete entrami i personaggi pubblici però poi viene complicato nasconderla capito? ma non nasconderla sì sto con questa persona basta cioè poi non pubblicare non andare a finire sul modello Fedez Ferragni dici o qualsiasi altra anche Totti Hillary esatto ma secondo me anche quella è una scelta nel senso che può essere bello condividere la propria vita di coppia col pubblico poi c'ha i suoi ritorni perché comunque ti porti follower a vicenda ti porti visibilità a vicenda ti porti anche occasioni a vicenda è una cosa le relazioni ad oggi se sei un personaggio quanto meno conosciuto si capitalizzano un sacco se ti bombi e stai con una persona altrettanto più o meno conosciuta e quindi non è che non è necessariamente una cazzata però c'è i suoi contro cioè io per esempio ultimamente con Amanda con la mia ragazza abbiamo un attimo capito abbiamo detto che demofa perché magari succede che la gente ti scrive in DM ma ci sta ancora insieme perché per una settimana non hai pubblicato una storia mamma che tale e a me quella cosa per esempio quel tipo di invasione della privacy dà fastidio perché c'è fatti i cazzi due e quindi c'è un discorso di compromesso però alla fine quello che ci siamo risposti è se ci fate mettere la storia insieme ma che cazzo che frega no sì così cioè così top secondo me però boh ovviamente più vai avanti magari cresci anche a livello di notorietà oppure sei Shakira e Piqué e cioè la esci c'hai i paparazzi è tutto un altro paio di mani vabbè è ovvio lì per forza di cose c'hai la relazione pubblica anche se non vuoi ovviamente ovviamente ci stanno fan di uno fan dell'altro che poi danno ragione si danno contro e fanno ancora più casino secondo ti in Italia cambiano totalmente il discorso qual è il tipo di sessualità maschile o femminile in cui si ha meno consapevolezza ma allora anche a livello psicologico non solo atto pratico malattie eccetera te potrei dire che scientificamente si conosce molto meno la sessualità della donna si è cominciato molto più recentemente a indagar rispetto a quella maschile però allo stesso tempo c'è un sacco di falsi miti o un sacco di ignoranza ma che poi non è ignoranza è proprio che c'è un'assenza totale di educazione sessuale su entrambi quelli che possono essere genitali no? quindi secondo me è un problema a 360 gradi non so la prevalenza magari è una prevalenza minima non direi un 80-20 ok quindi c'è c'è tutto il dilemma su quelli che possono essere i dolori al punto di vista sessuale l'anorgasmia oppure la disfunzione rettile tantissimi maschi pensano che la disfunzione rettile possa avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui la ragazza non ti piace e quindi se cominciano a fare domande oddio ma che sto cambiando la mia sessualità mi piacciono gli uomini le controlla la ragazza questo stereotipo qua nel momento in cui vede un pene che perde l'erezione non la ottiene si comincia a pensare oddio che non gli piaccio faccio cagare ho la smagliatura sotto l'ascella allora si è abbassato il pisello e tutte queste cose qua no? quindi cioè in Italia c'è una situazione critica credo sia il paese in Europa che ha il livello di educazione sessuale più basso davvero? ma te l'hai fatto a scuola di educazione sessuale? assolutamente no manco il preservativo sua banana che è una delle cose più inutili cioè ti insegnano quello e poi non ti dicono perché non fai non ti dicono infezioni non ti insegnano manco il concetto di consenso la differenza dei corpi il funzionamento dei corpi cioè è proprio una cosa buttata là che tra l'altro credo ci debba essere il consenso ai genitori per fare le educazioni perché sta cosa fa troppo ride ma mi madre che cazzo ne state come funziona un utero capito come è allucinante ho visto sto video su questa tipa che praticamente esponeva tutto il sistema scolastico ma italiana? no 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 americana che però secondo me è un argomento interessante cioè praticamente lei dice che secondo lei le scuole cioè proprio il sistema scolastico mondiale mondiale del mondo libero mettiamola in questo modo quindi italiano americano europeo cioè in qualche modo limita la conoscenza e quanto può apprendere uno studente in funzione della scuola cioè te la faccio più breve non ci sono lezioni dove ti spiegano magari money management ok tipo come gestire i soldi ad esempio come gestire la sua vita non ci sono anche tipo educazione sessuale cioè è difficile che ci siano queste lezioni o comunque consigli che ti possono veramente servire nella vita adulta perché questi consigli sono in te necate che andano all'università l'università tu studi per quello che devi fare lo studi no appunto ma se vai a fare che ne so lettere non è che studi come vivere con i tuoi soldi cioè proprio un sistema che permette poi a chi fa all'alunno e poi un domani farà un figlio di tornare a rimetterlo in quel circuito lì perché magari io non sapendo non essendo magari che ne so pratico te la butto lì a caso le cripto comunque investire in soldi aprire business e cose così non ci sono mai cose del genere a scuola ok non dico nello specifico ma comunque anche delle infarinature leggere non ci sono mai proprio per secondo questa signora per che poi magari aveva studiato ha fatto tipo un TED talk quindi comunque una roba abbastanza ufficiale che praticamente dice guarda loro fanno in questo modo qua proprio per far sì che poi il sistema ributti le persone nella scuola pubblica capito che intendo perché se uno magari che ne so avessi avuto che ne so money management avessi avuto sapesse già come fare per una casa per aprire un business per stare tranquilli ma anche a livello sessuale magari possiamo fare questa riflessione in questo modo qua non avendo modo di diciamo te la butto brutta cambiare classe sociale anche magari volendo ok quindi arricchirsi facendo un business e cose così tu torni non c'hai i sordi per collegarti esatto e lo ributti alla scuola pubblica in questo modo e quindi continua tutto è un circolo vizioso e lo fanno apposta per ributtare le persone lì secondo me potrebbe essere vera questa cosa perché noi ci insegniamo in continuazione che la cosa importante non è che sui voti è sapere l'italiano è sapere se una mazza è la storia ma sapere che devo fare nel futuro io non lo so non me lo spiega nessuno perché io ad esempio non so molte cose tipo delle bollette di cose così io non so una mazza io ora sono nella merda perché io non so una mazza per esempio educazione fiscale non esiste appunto io ho esoperto la partita IVA quando ho iniziato a lavorare ci ho capito un cazzo per mesi ho dovuto imparare mi sono dovuto fare autoeducazione fiscale insieme al consulente eccetera eccetera tipo l'esempio abbiamo fatto l'artistico sono me la partita IVA ci devi insegnare che cos'è perché esci di lì e fai una roba se continui io ce l'ho ma chiedimi come funziona e non ti so dire neanche bac non so proprio nulla ce l'ho occhio ciao salutiamo il CAF comunque io rispetto a sto discorso non conosco benissimo il sistema scolastico americano è peggio del nostro comunque sì ho idea più o meno come funziona so lì la scuola pubblica è molto più bistrattata rispetto a quella privata qua in Italia tendenzialmente soprattutto a livello accademico le università pubbliche so di buon livello magari a livello organizzativo fanno schifo al cazzo scusate insomma non è vero la poesia però cioè a livello di nomi di professori di insegnanti c'è poi trova dentro il livello è alto il punto qual è è che magari prima dell'università facendo un passo indietro siamo immersi in quello che è il nozionismo cioè siamo immersi nel imparare la nozione sapere la nozione nel momento in cui sai la nozione allora prendi il voto che ti consente di andare avanti e questo va un sacco a discapito di quella che può essere l'acquisizione di competenze e proprio sapere il mastering di quella che è una conoscenza di una nozione della nozione in sé la classica cosa di chi impara memoria a scuola e chi invece cerca di avere il critical thinking no? cioè c'è pochissima sollecitazione verso quello che è il critical thinking e poi siamo legatissimi ai voti ma anche rispetto al resto d'Europa cioè io mi rendo conto all'interno del contesto universitario la gente si sente male se non PIA 30, 28, 27 e prende un 25 o un 26 cioè un 26 al di fuori dell'Italia 85% che è un voto della Madonna ma infatti qua in 26 sei una pippa capito come? ma scusami ma anche cioè 26 è vicino a 30 sì 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 ma perché il punto il problema grandissimo secondo me è proprio il legame al voto cioè in Italia soprattutto c'è una visione stratossica di quella cioè una relazione tossica tipo Shakira Coppighè rispetto al voto e al dover essere cioè che ti identifichi il tuo valore dipende dal tuo voto quando tu esci dall'università a meno che non si tratta dei concorsi in cui il voto conta il tuo voto non conta un cazzo io conosco tantissime persone mi dispiace conosco tantissime persone che sono uscite con 110 10 lode che sono delle seghe perché a livello di pensiero critico quello che hanno studiato cioè si soffiano il naso perché non studiano per apprendere determinate cose ma studiano per prendere il voto e di se bravi e di se soddisfatti magari se si sentono male va a discapito della loro vita e non acquisiscono la competenza acquisiscono solo la conoscenza funzionale all'esame non funzionale a quella che è la vita quindi quando poi devono fare il lavoro non sanno manco da dove partire ma perché tu sai da dove partire sei stata in qualche modo aiutata a capire da dove partire a scuola no vabbè si sta parlando dell'università di un altro no no lo so ma in ogni caso l'università è sempre scuola ma l'università è una scuola secondo me che tu alla fine affronti in età più adulta sì certo capito ormai lì sei fatto e finito hai già deciso la tua vita per i prossimi 5 anni no non è vero questo non lo so nel senso che un sacco di gente il proprio percorso lo conosce proprio in itinere c'è quello che alla fine poi hanno fatto poi fanno infarinata oppure c'è il discorso di studiare e lavorare che io rispetto io non ce la farei mai faccio come quelli che dicono ai non monogami non ce la farei mai io non ce la farei mai perché è una cosa che a me mi mette terrore cioè che io studio per 5 anni una cosa per semplicemente per svegliarmi e lavorare dalle 9 alle 5 tutti i giorni della mia vita nel fare quella cosa per campare per il posto fisso però è una scelta che rispetto perché una persona che si sente serena con questo tipo di scelta bella per te veramente cioè non c'è nessuna negatività in quello che sto dicendo cioè veramente strar rispetto perché io per me la vedo una cosa impossibile cioè io ho fatto i lavoretti da pischello per campare tutto quanto ero cose che mi facevano stare malissimo cioè c'ho la sindrome post-traumatica da stress perché ho fatto due mesi al cameriere capito? no no è una battuta no no non sono arrivato a stile non mi mette paura perché devo iniziare a lavorare anche io alla fine no il cameriere lavoro in merda a strar rispetto con i camerieri cioè io non gliela faccio finivo e volevo ammazzarti no no ammazzare ammazzare direttamente ok step successivi sì il mondo della ristorazione è molto complicato è anche molto particolare ci stanno delle eccezioni che magari ti trattano bene però è pieno di mobbing è pieno di nonnismo ma c'è ma c'è aspetta cosa stai facendo? sulla musica sì ma ci voleva arrivare la domanda non ne includeva tutto concludendo un po' le figate di questo discorso immenso che abbiamo fatto volevo sapere anzi volevamo sapere ti puoi invitare in matrimonio mi invitiamo volevo sapere Livio come persona proprio in generale al di là del sesso al di là di tutte queste cose che abbiamo parlato che chiaramente sono il tuo lavoro e la tua passione però l'essere umano solitamente ha più di una passione di solito e no volevo sapere effettivamente punto uno altre cose che magari effettivamente ti appassionano e che fai che le persone magari non sanno e punto due dove ti vedi da qui al futuro cioè come lavorare con quello che hai fatto o magari gli obiettivi che anche esulano da quello che hai fatto fino ad adesso perché non è mica obbligatorio grazie grazie io quello che faccio oltre a quello che rivelo sono appassionatissimo di vabbè a parte sono romanista ho passione per la Roma vabbè questa è una parte che possiamo saltare quindi mi piace quando è TG la stessa cosa sì capito cioè mi piace la Roma e tutto quanto però diciamo lo sport mi piace forse anche più del calcio sono le arti marziali miste ed è una cosa che ho anche fatto ho fatto una cosa leggermente diversa ma il Jit Kundo adesso mi sto riallenando dopo anni mi piace tendenzialmente lo sport a combattimento tantissimo quindi sono malato però è una cosa che ho 75% del pubblico femminile non mi metto a parlare d'MMA lo so che sembra una cosa sessista però tendenzialmente è base in interessi maschili quindi non mi metto a dire ah no che poi stanotte c'è stata Xeira contro Will ah facciamo le previsioni e frega un cazzo a nessuno capito cioè se faccio una storia ti dico oggi fa freddo mero del culo è più vista è più apprezzata ed è giusto così no e poi al di là di questo scrivo poesie davvero? yes che tipo di poesie? faccio realismo sporco quello che si chiama dirty realism è un po' quello di Bukowski se vogliamo proprio dire il nome più più sputtanato della corrente e dove è pubblico? eh non non ancora ok basta non ancora spoilerino non ancora però si potrebbe in futuro chi lo sa e ovviamente gli argomenti di cui parlo sono il la Roma faccio le poesie ma no si parla sempre di diciamo che nelle poesie metto la mia parte più senza nessun tipo di filtro clinico scientifico proprio è molto più carnale rispetto a come vivo la sessualità la relazionalità è molto turbata tra l'altro in quel tipo di diciamo in quel tipo di linguaggio poi faccio musica c'è un progetto musicale si chiama leave you tipo lascio te in inglese pensavo tipo love you no 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 leave you tipo love you però non è love ma è leave lascio sì lascio te sì 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 poi mettiamo c'è Spotify immagino sì sì mettiamo tutto sotto è un progettino che ho prevalentemente collaborazione con uno dei miei migliori amici che si chiama Leonardo ciao Leonardo è un produttore della Madonna e abbiamo fatto un EP in quarantena cioè tipo in quarantena sono uscito da un momento bruttissimo quindi mentre la gente si deprimeva io stavo tutto carico pieno di energia creativa così e quindi ho fatto un EP e e poi abbiamo pubblicato un paio di singoli il EP in inglese i singoli sono in italiano secondo me sono sono carini è normale infatti se no guarda che mi sta sul cazzo tantissima la musica che ho fatto in passato cioè io so uno di quei tipi di artisti creativi che ti risenti la roba che hai fatto in passato e dici ma che è sta merda adesso la elimino poi non lo puoi fare e quindi di base questo e poi passione più insolita passione più insolita una roba una roba controversa esatto tipo che ti piace ciucciarti le dita dei piedi non lo so no no una roba controversa e diciamo mi sto avvicinando sono vicino un pochino nel giro un po' più kink della sessualità quindi un pochino di clubbing me lo concedo aspetta parla come mangi come è che sono più volgare l'ipariano parti erotici ok diciamo quello è il mio lato un po' più smignottoso smignottoso la buttana Livia sì assolutamente io entri da Livia gran mignotta sono una gran mignotta no non faccio travestitismo però sono una mignotta mia mignotta non c'ha genere secondo me il concetto di mignotta anche secondo me cioè si può essere tranquillamente mignotta la mignotta mignotta asterisco sì e niente più o meno ah mi piace un botto cucinare davvero per me è tremendamente terapeutico qualsiasi cosa mi può essere successa qualsiasi cosa mi faccio una pasta all'allardiata napoletana me la mangio e sto in paradiso quindi più salata che dolce sì assolutamente no è dolce mai fatto un dolce in vita mia perché non mi piacciono è perché mi spaventano cioè mi sembra un processo più lungo più più tortuoso cioè a me già aspettare che è una cosa capito che devi fare l'impasto l'uovo lo zucchero l'albume monta ma che cazzo è no voglio la pazienza però magari cucinare lentamente cioè mi piace un sacco cucinare tipo i ragù oppure tagli un pozzo di carne alla volta piano piano con calma è una cosa che mi dedico anche tanto magari a quello che può essere il taglio la cipollina fina fina tutto che la musica rinassante sì sì è un momento un coschi audiolibro letto con la voce soave me lo immagino senza pioggia però e quindi niente mi piace tanto cucinare che tra l'altro è un'ottima carta per rimorchiare fun fact tipo con Amanda la mia ragazza ho imparato una tecnica ho affinato una tecnica che era siccome mi era capitato lei è vegetariana baravegana e in passato mi era già capitato che beccavo una persona vegetariana io solitamente ai ragazzi magari per fare il coatto così prima ti faccio la madriciana ti faccio la carbonara tutte queste cose qua basic ti faccio il tofu ti faccio il tofu cosa più basic del mondo che un uomo può dire nel momento in cui mette una padella sui fornelli è te cucino una carbonara che toti che fa capito se cagate qua da uomo ti fidate assolutamente ve lo dice uno che lo fa e tipo ho imparato a dire la carbonara se sei vegetariana ti faccio una cacio e pepe se sei vegana ti faccio una ioglio e allora lì ha visto la mia inclusività e ha detto oddio forse questo hai fatto tipo l'upgrade e lì ho scoperto anche che era vegana e ho fatto che bello mi sono salvato da eh ma io sono vegana e quindi boh la carbonara e io ho fatto la prima volta che ci siamo visti io ho fatto o la seconda io ho fatto una ioglio e me ne sono assunto la responsabilità di avergli fatto ioglio tanto eravamo tutte e due su quelle cose tipo sì che tipo si annullano insieme sì sì meno per meno meno no questa si taglia meno per meno più più sì va bene vi ringraziamo tantissimo per aver visto questo episodio di The Raga's Talk ci vediamo al prossimo episodio e intanto ringraziamo grazie a voi ragazzi Livio baci ciao ciao The Raga's Talk